Con l'accensione dell'albero di Natale nel piazzale della chiesa di San Sebastiano, i residenti di Bellocchi e diverse realtà locali hanno dato il via anche alla raccolta fondi in favore della carita sparrocchiale, una iniziativa voluta per sostenere le famiglie in difficoltà che prende appunto il nome di Bellocchi Comunità. Quest'anno hanno aderito più associazioni all'iniziativa e la speranza è che crescano anche le donazioni che in passato hanno contribuito a sostenere una cinquantina di nuclei familiari. Sì, questa è la terza raccolta fondi, tutto è cominciato nel periodo più duro del lockdown, quindi ad aprile 2020, quando eravamo tutti chiusi nelle nostre stanze, abbiamo avuto questa idea di dare vita a questa raccolta fondi per Bellocchi, l'abbiamo chiamando a raccolta tutte le associazioni di Bellocchi che collaborano e quindi abbiamo dato il via a questa raccolta fondi che nella sua prima e seconda edizione, diciamo da aprile a dicembre 2020, ha avuto un grande successo. Quanto avete raccolto e in che modo sono state aiutate le famiglie? Sì, abbiamo raccolto veramente una cifra molto importante in queste due prime edizioni perché abbiamo raccolto poco più di 13 mila euro e poi sono state destinate alla Caritas di Bellocchi che a sua volta le ha utilizzate per aiutare le famiglie di Bellocchi che sono in difficoltà, acquistando loro alimenti quasi per 6 mila euro, pagamento delle bollette per 3.500 euro e abbiamo acquistato dei computer per i bambini, per la dad durante il periodo in cui si svolgeva per 2.300 euro e poi abbiamo dato un ulteriore contributo per l'affitto per altri 1.500 euro. E sono nove in totale le realtà di Bellocchi che hanno deciso di adoperarsi per il proprio quartiere mandando un messaggio di forte solidarietà. La comunità, che si è già dimostrata molto sensibile all'iniziativa, tende ancora una mano a chi oggi si trova in stato di bisogno. Abbiamo pensato di estendere questo periodo dal periodo natalizio al periodo del nostro patrono San Sebastiano che è il 19 gennaio. Grazie. Grazie.